Bene, adesso è il momento della nostra raffica di mercato. Partiamo dalla Bari perché c'è una buona notizia che riguarda il club bianco-rosso che ha ufficializzato il prolungamento del contratto sino al 30 giugno del 2026 con l'opzione per un altro anno per Mattia Maita. Lo ricordiamo, arrivato a generale del 2020, il centrocampista siciliano ha indossato per 123 volte la maglia bianco-rossa del Bari. Un punto di riferimento dello scacchiere di Michele Mignani. Continuerà dunque la sua storia tra Mattia Maita e il Bari. Scegliamo in Serie C perché la Virtus Franca Villa ha ufficializzato un'operazione di fatto conclusa già da un paio di giorni. Alessandro Polidori, attaccante laziale classe 92, cresciuto nel settore giovanile della Ternana nelle ultime due stagioni ha giocato sempre nel giorno C di Serie C con la maglia della Viterbese, 57 presenze, 11 gol e 3 assist per lui. Calciatore già a disposizione di Alberto Villa. Scendiamo in Serie D dove il team Altamura, lo abbiamo annunciato insomma anche a Calcio Market, ha poi ufficializzato Gaetano Logoluso, centrocampista Barlettano, che torna ad Altamura, torna a giocare al D'Angelo dopo il mancato rinnovo a Potenza in Serie C. Ha giocato tre professionisti nella passata stagione, ha rifiutato Torres e Messina. Poi tante squadre su Logoluso, alla fine la spuntata, il team Altamura domani intanto potrebbe essere il giorno buono anche per l'annuncio ufficiale di Andrea Petta, difensore che ha chiuso l'esperienza con il Barletta. Per l'attacco piace sempre Andrea Saraniti, ma lo ricordiamo il calciatore deve ancora liberarsi dal Casarano. In questo momento sotto contratto con i rossazzurri. Capitolo gravina perché ci sono tante novità. Domenico Santoro, attaccante, si avvicinano ulteriormente le parti. Matteo De Gaulle, difensore, molto probabile, il ritorno a gravina, molto probabile. Anzi, dettagli che mancano per la conferma del centrocampista Giuseppe Lauria. Piace Domenico Vitiello, attaccante 96, ultima stagione al Tolentino. Piace Vincenzo Lisi, centrocampista 2001, ex San Benedetti e Serra, benne poi tre idee under. Diego Coppola, terzino Mancino 2005, Giancarlo Orlando, terzino 2004, di proprietà del Bari, nella passata stagione al Nardò e Gian Domenico Iurino, portiere 2004, nell'ultima stagione invece in forza alla Fragolese. Il Barletta sta definendo gli ultimi dettagli. Aspettiamo l'ufficialità per l'ingaggio del difensore, senior Mario De Marino, ex Nocerina, in Puglia. È transitato da Andrea Biceglie. Barletta che invece ha ufficializzato il primo calciatore junior. Si tratta del centrocampista 2005, Andrea Fornaro, cresciuto nelle giovanili del Lecce. Eccolo qui in foto. Manfredonia si va verso l'accordo con Franco Cinque in panchina. A Martina invece potrebbe arrivare Ridwan Palermo, attaccante argentino 96, in Italia ha già giocato con la Villa Cidrese. È un figlio d'arte perché è figlio di Martin Palermo, attaccante, ex attaccante della nazionale argentina. Fassano, a proposito degli argentini, che ha ingaggiato Lucas Marsello Ido Iaga, esterno Mancino, già in Italia con diverse esperienze in Sicilia. Con Unitas Sciacca, AC Sant'Antonio e Nuova Igea Virtus. Il Casarano invece ha sempre nel merino Luigi Falcone, esterno offensivo che prima di firmare con i rossazzurri però deve rescindere con il Fassano. Abbiamo chiesto al Bari intanto Francesco Lops, Casarano che ci prova con il centrocampista 2005 di proprietà del Bari, che attualmente è in ritiro a Roccarasso. Campionato d'eccellenza, iscrizione ok per il Corato, è arrivata questa mattina la fumata bianca, capiremo poi se tornerà effettivamente in panchina Salvatore Maurelli. I segnali che arrivano dicono proprio di sì. A Canosa c'è una trattativa aperta con Paolo Vicino, ex portiere della Gravina, classe 95. A Molfetta, vicino l'accordo con Gaston Cesani, argentino 95, ex Rieti ed insieme Formia, lo ricordiamo a Molfetta che spera di tornare in Serie D con la formula del ripescaggio. Poi la novità dell'Unione Calcio Biceglie, Facundo Tallin, difensore che ha giocato già in Italia con Città di Trani e US Mola, firmato con l'Unione Calcio Biceglie. Gran colpo di mercato invece, questa è una notizia proprio delle ultime ore, gran colpo di mercato per il Biceglie Calcio che ha ingaggiato Rocco Mangialardi, grande protagonista a centrocampo nelle ultime stagioni con la maglia del Martina.